mi sto cambiando perché stamattina dobbiamo andare da freeman a chieri questa azienda insieme al gic gruppo imprenditori chieresi con dario caffaie per intervistare maurizio palladino sarà un'intervista molto interessante sicuramente dal punto di vista lavorativo e formativo perché la freeman forma anche le persone che poi anzi hanno iniziato formando le persone che vanno a lavorare per loro weekend weekend andato bene siamo stati al belte in pagan festival di masserano vicino biella posto veramente stupendo immerso nella natura con tanto di rievocazioni storiche tempi spirituali dedicati alla dea madre per chi è che segue questo tipo di religione e ovviamente poi la parte merchandising con i mercatini e i vari concerti ma la settimana ricomincia quindi adesso mi metto i pantaloni perché con la tuta non mi sembra il caso di andare a fare l'intervista e noi ci vediamo adesso vado a fare l'intervista e noi ci vediamo un po' a fare un volo di prova e vi faccio vedere il secondo volo di prova del drone perché era una prova che ci tenevo a fare perché sto cercando di capire bene come funziona soprattutto la parte manuale e noi tanto ci vediamo domani quindi vi saluto con questo video oggi tutto il il giorno in in post produzione andare avanti col montaggio andare avanti con il lavoro e volevo però ritagliare questo piccolo pezzettino di video anche per farvi vedere che cosa fa la mia compagna già da curcio che potete trovarla sui social con il nome di magia nell'aria adesso lei sta realizzando delle piccole opere e l'idea è quella di mettere in piedi un piccolo merchandising di creazioni artigianali e magari riuscire ad approdare poi ai mercatini o provare comunque iniziare con la vendita online è ancora tutto in fase embrionale lei si sta dando tantissimo da fare per cercare di arrivare a un risultato che gli piacerebbe utilizzare come secondo lavoro come seconda entrata e quindi vediamo se insieme anche con il mio aiuto riusciremo ad arrivare da qualche parte anche con il vostro aiuto quindi vi chiedo magari di andare su facebook digitare magia nell'aria e la potete trovare andare a vedere tutti tutti i suoi lavori ma a proposito di lavoro adesso lavorare tocca a me mercoledì mercoledì di una settimana veramente corta breve ma intensissima stiamo per partire dove stiamo andando andiamo da gabriele oralli questo fantastico artista di cui che avete già visto su questo canale perché siamo andati a fare un sopralluogo per fare il video mentre lui è sospeso con gli anelli e fa questi esercizi di calisthenics sopra un filo d'acqua sopra questa piscina quindi inizia l'avventura seguitemi perché sarà veramente una giornata molto intensa inizia l'avventura seguiti allora un piccolo aggiornamento gabriele si sta andando a cambiare perché ovviamente si è bagnato tutto per fare le riprese però questa prima sessione che è mezza giornata di questa mattina è andata molto bene lo studio delle luci per fortuna ha dato degli ottimi risultati sono rimasto mi sono sorpreso di me stesso però sono venute delle riprese veramente spettacolari quindi adesso andiamo a pranzo e poi continuiamo con la seconda parte che sarà forse anche un po' più intensa mi continuo a questa settimana corta che in realtà è lunga perché sto veramente lavorando molto sono molto contento che il lavoro vada in questa direzione e oggi andiamo da Silvio Irilli è l'artista degli ospedali che segue ospedali dipinti e lui si occupa di dipingere i reparti di radiologia degli ospedali ha dipinto tantissimi ospedali è andato fin negli Stati Uniti a lavorare e dobbiamo fare una specie di intervista barra documentario io penso che in 3-4 orette dovremmo farcela anche perché lui ha preparato una serie di domande quindi vediamo un attimo come gestire il tutto eccoci ragazzi finalmente siamo arrivati da Silvio Irilli l'artista di ospedali dipinti Silvio ciao a tutti ciao Francesco un grande saluto a tutti voi stiamo iniziando a girare qualcosa di veramente molto carino secondo me non sarà un bel lavoro sarà un capolavoro perché con Francesco secondo me già ho visto che dalle inquadrature dalle riprese faremo veramente un racconto molto interessante del progetto di ospedali dipinti a proposito di capolavori volevo farvi vedere il set dove praticamente stiamo girando che ci sono tutte le opere di Silvio alle spalle adesso tra un po' inizieremo le riprese e poi andremo avanti a raccontare la sua storia è la storia di ospedali dipinti che è una storia meravigliosa giusto? sì esatto è un progetto che portiamo nei reparti quindi è un progetto anche abbastanza così emotivo emozionale quindi seguiteci e molto presto poi vedrete un po' tutto il racconto ciao 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 come sempre ricordatevi trovate in descrizione il link del sito e tutti i link utili per andare a scoprire qualcosa di più su ospedali dipinti terminato l'inizio delle riprese del documentario di Silvio e Rilli ora rientriamo in home studio e andiamo avanti ovviamente con la post produzione che mi si sta un po' accavallando anche perché poi domani è festa e volevo riposarmi un po' anch'io sabato un altro matrimonio e domenica sicuramente spero di fermarmi un attimino e riposarmi noi comunque ci vediamo lunedì perché la settimana finisce qua e perché vi dico la verità domani non ho tanta voglia di vloggare vorrei rilassarmi quindi un abbraccio e un saluto a tutti ciao